Un caso di febbre dengue è stato riscontrato nella frazione di Cigiano Comune di Civitella in Valdichiana. Siamo nella Valdichiana Retina, già disposta dal sindaco una disinfestazione urgente. L'ASL ci ha comunicato che un cittadino che ha soggiornato saltuariamente qui a Cigiano per qualche giorno è risultato infetto da febbre dengue. È una febbre che si trasmette attraverso il pizzico di zanzara e quindi è importante, l'ASL ci ha ordinato, di fare una disinfestazione straordinaria per emergenza sanitaria in un raggio di 200 metri dall'abitazione dove ha soggiornato questo contatto. Si tratta di un bambino rientrato da Cuba la scorsa settimana e dopo circa tre giorni ha accusato sintomi che hanno fatto preoccupare i familiari. È stato così riscontrato il virus di dengue tipico dei paesi tropicali e subtropicali. In questo momento il bambino si trova in isolamento e sono stati attivati tutti i protocolli di prevenzione. Il virus si trasmette con la puntura della zanzara tigre. La disinfestazione verrà fatta domani sera, dalle ore 22 e 23 in poi per tutta la notte, in area pubblica e privata, quindi nei giardini privati in particolare. Quindi si chiede ai cittadini che hanno dei giardini molto grandi di lasciarli aperti per permettere ai nostri mezzi di andare a fare una disinfestazione che verrà fatta da una ditta specializzata. Questa è una disinfestazione preventiva per andare ad abbassare quello che è il rischio, quindi ordinata dall'ASL e come ha ben detto da quest'anno c'è una norma regionale che vieta ai comuni di andare a fare quelle disinfestazioni a getto in scopo preventivo come venivano fatte e per gli anni passati, quindi si possono fare disinfestazioni come in questo caso ma solo localizzate e per emergenze.